... Incidente sulla statale 16, due morti, lo scontro tra due auto nel territorio di San Paolo, Civitate. Le vittime sono Fabrizio Ronchetti, di Termoli militare in servizio a Foggia e un quarantenne di Canusa. Vi abilità regionale, situazione difficile. Il tema affrontato a Moby Dick. L'assessore Nagna ha detto che i fondi ci sono, ma nessun intervento è stato ancora fatto. Tanti problemi dall'area del Cadene all'Alto Molise. Regionali, noi con Salvini rompe gli indugi. Alla presidenza, candidata Aida Romagnolo. Al Parlamento, il coordinatore Luigi Mazzuto. Il movimento leghista si sfida dal centro-destra e va da solo. Termoli, nuovi progetti di servizio civile. Sono stati illustrati dall'assessore alle politiche sociali. Un'opportunità, è stato detto, per 16 giovani che saranno impegnati in attività culturali e rivolte a disarvi e minori. Lupi e Agnonese in campo con i nuovi. Il campo basso domani trasferta a basto e gli alto molisani, ospiti del Monticelli. In campo scenderanno i giocatori arrivati nell'ultima finestra di mercato. Buongiorno, benvenuti all'edizione delle 14 del telegiornale che apriamo con la cronaca. Due morti nell'incidente stradale avvenuto ieri sera sulla Statale 16 nei pressi del Bibio di San Paolo, Civitate. Le vittime sono Fabrizio Ronchetti, di Termoli, maggiore dell'esercito in servizio a Foggia. È un uomo di 40 anni, originario di Canosa. Sono in corso le indagini per fare chiarezza sulle cause dell'impatto. Fabrizio, occhio nero. L'incidente è avvenuto lungo la Statale 16 all'altezza di San Paolo di Civitate, dove per cause da accertare si sono scontrate due auto. Per Fabrizio Ronchetti, 46 anni, maggiore dell'esercito che stava tornando a Termoli, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate anche da Patrizio Tristano, 40 anni, originario di Canosa, morto dopo il ricovero in ospedale. Viaggiavano da soli. La dinamica dello schianto sarà ricostruita dai carabinieri della Compagnia di San Severo. Il militare in servizio all'undicesimo reggimento, Genio Guastatori di Foggia, stava rientrando a casa dopo il lavoro, quando la sua lancia Y si è scontrata con una Fiat Idea guidata dall'uomo che viveva a Cerignola. L'impatto non gli ha lasciato scampo e per estrarre il corpo senza vita dall'auto accartocciata è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Fabrizio Ronchetti, originario di Sernia, ma da tempo residente a Termoli, lascia la moglie e un figlio di 11 anni. La notizia si è diffusa in città dove in tanti si stringono alla sua famiglia e lo ricordano come una persona precisa, generosa e sempre disponibile. Il cordoglio per la scomparsa dell'ufficiale Fabrizio Ronchetti è stato espresso dal sindaco di Termoli. Ho conosciuto e apprezzato la sua persona sia sul piano professionale che umano, ha affermato Angelo Sbrocca, rivolgendo un abbraccio alla moglie e al figlio, privati improvvisamente del suo amore, ha concluso il sindaco. Viabilità in Molise, tema di strettissima attualità, considerata la condizione in cui versano le strade e i collegamenti nella nostra regione. Se ne è parlato a Moby Dick, la trasmissione condotta da Giovanni Minicozzi. Sentiamo in proposito Tonino Danisse. Sono tante ferite aperte nel territorio molisano, sono le strade disastrate che attraversano la nostra regione, quelle che dovrebbero collegare i paesi tra di essi e con i centri più grandi. Il Molise è delle frane, dei dissesti che va dal mare alla montagna. Il Molise è in cui il rischio isolamento è dietro l'angolo, in cui percorrerlo a volte è come viaggiare su una diligenza di fine 1800. Alto Molise, Mediosannio, Fresiglia, area del cratere, Tappino, sono solo alcuni degli esempi eclatanti di strade dissestate o non completate. Eppure le strade e le infrastrutture sono la base di qualsiasi idea di sviluppo per una terra turistico, industriale, commerciale. La viabilità è stato il tema affrontato a Moby Dick con politici, amministratori e sindaci imprenditori. L'assessore regionale alle infrastrutture Pierpaolo Nagni ha ribadito che la programmazione è stata ultimata e le risorse ci sono, ma di fatto in cinque anni di governo non è stata realizzata una sola opera pubblica. 40 milioni che abbiamo inserito nel patto per il sud che devono essere utili e sono lì pronti per poter definire questa viabilità incompleta che per noi rimane una priorità, l'abbiamo indicata come priorità nel primo approccio da quando siamo arrivati e la consideriamo tale. Di parere opposto gli imprenditori Quintino Pallante e Franco Mastrodonato. Ci vuole una spinta molto forte da parte dell'istituzione per cercare di recuperare, anche perché i danni che sono stati fin oggi procurati sono notevoli, ma quello è esponenziale. Ogni anno, ogni anno soprattutto, ogni periodo invernale produce dei danni per i quali non farà in tempo l'assessore Nagni a dare altri finanziamenti. Se noi non riusciamo a mantenere il quotidiano, ma cosa vogliamo progettare, ma cosa vogliamo visionare, ma come facciamo? Andare avanti ogni giorno con queste problematiche è veramente difficile. I presidenti delle province di Campobasso e Isernia, Antonio Battista e Lorenzo Coia, hanno lamentato la carenza di risorse per la manutenzione della viabilità di loro competenza. Il sindaco di Civitanova del Sannio, Roberta Ciampittiello, pur riconoscendo l'impegno delle istituzioni, ha rimarcato i disagi estremi che vivono le popolazioni dell'Alto Molise. Io penso anche a servizi essenziali come quelli della sanità. Noi abbiamo un problema soprattutto sugli ospedali. Da tempo, ormai sono anni che si parla della chiusura del punto nascite, per esempio, ad Isernia. Se effettivamente dovesse avvenire la chiusura del punto nascite a Isernia, significa che in tutta la regione della provincia di Isernia non si potrà più partorire, quindi si dovrà andare a Campobasso. Non meno difficile la situazione denunciata dai cittadini dell'area del Cratere e dal sindaco di Fossalto, Nicola Manocchio, per le strade del suo comune e per l'assenza totale di interventi da parte della protezione civile. Intanto il contratto di programma ANAS 2016-2020, approvato dal Cipe lo scorso agosto, è diventato efficace con la registrazione da parte della Corte dei Conti. Gli interventi previsti nell'arco dei cinque anni ammontano circa 30 miliardi di euro. Il 56% degli investimenti previsti interesserà le regioni del sud Italia e le isole, per un totale di circa 13 miliardi. I sindacati tornano a fare pressing sulla regione affinché faccia chiarezza sulle sorti della gamma, di cui dopo la firma della Cassa Integrazione non si sa più nulla sul detestino dei lavoratori dello zuccherificio, abbandonati a se stessi e sull'area di crisi. Insomma, su questi temi è sceso un silenzio preoccupante che non lascia prestagire nulla di buono. Ce ne parla in questo servizio Anna Maria Di Matteo. E' sceso il silenzio sull'avvertenza gamma dopo la firma della Cassa Integrazione che ha ridato ossigeno ai lavoratori ormai allo stremo. Nulla sembra muoversi, ha ridato certo ossigeno, tuttavia l'incertezza sul futuro dell'azienda rimane. I sindacati di categoria di Cigelle, Cisle e Willi in una nota congiunta sono tornati a sollecitare la regione affinché faccia piena luce su quella che è la reale situazione. La Cassa Integrazione non basta, hanno scritto in una nota. Occorre andare avanti velocemente e rendere esigibile quanto sottoscritto negli accordi con il Ministero. Non possiamo più aspettare, hanno avvertito i sindacati. Occorre conoscere qual è lo stato dell'arte del piano degli investimenti che la regione e Avicola Vicentina devono porre in essere affinché nel territorio mattesino si ricominci finalmente a parlare di lavoro. Non a caso i vertici nazionali delle tre sigle sindacali hanno chiesto un incontro alla Avicola Vicentina con la speranza che in quella sede emergano notizie sul piano industriale per l'incubatoio e il macello. La regione è chiamata a fare la sua parte e a farlo in fretta. I tempi ci sembrano biblici e il 31 dicembre è ormai arrivato, hanno denunciato i sindacati, ma a livello regionale, nonostante le richieste di un incontro, tutto tace. Un silenzio preoccupante che non riguarda solo la gamma, ma anche il futuro dei lavoratori dello zuccherificio per i quali gli ammortizzatori sociali scadranno a giugno. E poi non si sa nulla delle manifestazioni di interesse presentate per l'area di crisi complessa. Uno stato di cose estremamente preoccupante che ha indotto i sindacati a sollecitare ancora una volta un incontro chiarificatore con la regione, ma da Palazzo Vitale al momento tutto tace. Il movimento politico Noi con Salvini è pronto a correre da solo alle prossime elezioni. Il coordinatore regionale Luigi Mazzuto, i due responsabili provinciali e una ventina di rappresentanti comunali hanno lanciato l'ultimatum al centro-destra e hanno scelto Aida Romagnolo come candidata alla presidenza della regione e lo stesso Mazzuto per il Parlamento. Noi al tavolo abbiamo riscontrato in questi mesi di confronto una confusione estrema anche su quelle che possono essere soprattutto di identità di quello che si voglia fare per questa regione. Se siamo arrivati con i coordinamenti provinciali e con il coordinatore di coordinamento regionale a definire una linea politica abbiamo deciso per una nostra proposta alla presidenza della regione con Aida Romagnolo, una proposta che parte da Venafro per arrivare a Termoli, a Casagrande, tutta la regione è tutta una candidatura forte di una persona innovativa, di una persona capace e anche a femminile perché qui in questa regione non c'è mai stato un trattamento di questo genere per quanto riguarda il femminile e noi ci crediamo fermamente in questa candidatura. Con lei adesso ci misureremo con i cittadini di questa regione per riempire il programma che noi presenteremo al cospetto dei cittadini molisani nelle prossime elezioni regionali. Il Molise è dei molisani e deve essere restituito ai molisani. Noi vogliamo un Molise libero e i cittadini devono tornare ad essere i protagonisti dei protagonisti e non più degli spettatori. Per quanto riguarda il nostro programma sarà fatto con il cuore, quindi non sarà un programma copia e incolla come diciamo quasi tutti i partiti fanno. Noi faremo un programma che rispecchi le vere esigenze dei cittadini. Entremo in tutti i comuni del Molise, ascolteremo i cittadini, parleremo con loro e quindi quello sarà il nostro programma. Naturalmente i punti salienti, come primo punto, non potrà mancare il lavoro. Noi non possiamo assistere in un modo indifferente all'esodo quotidiano di tanti giovani che giornalmente lasciano la nostra regione per andare in cerca di fortuna, di opportunità in Altitalia o addirittura all'estero. Questo non possiamo più consentirlo. Poi un altro punto all'ordine del giorno sicuramente è la questione dei migranti perché voglio dire necessita una regolamentazione anche per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Noi non siamo contro ai migranti, noi siamo contro alla speculazione economica di questi migranti. Soddisfatta per questa designazione? Molto soddisfatta, mi impegnerò tantissimo per cercare di sollevare la nostra regione che ormai è in uno stato veramente di non ritorno. Quindi ringrazio tutti i vertici nazionali del partito e il coordinamento regionale e i due coordinamenti provinciali di Segne e di Campobasso. Dunque la già difficile situazione all'interno del centrodestra si complica con la decisione assunta dai leghisti. Al via le domande per il reddito di inclusione come misura di contrasto alla povertà. La nuova misura del governo è stata presentata a termoli dalla deputata del PD Laura Venitelli. Non si tratta di un semplice sussidio, ha spiegato la parlamentare, ma di un pacchetto di misure personalizzate che cercherà di accompagnare i beneficiari verso l'autonomia con l'inclusione sociale e lavorativa. La Venitelli ha evidenziato anche il contributo del mondo dell'associazionismo al varo di questa importante iniziativa e l'impegno condivisa per attivarla. Una legge elettorale regionale che indebolisce ancora di più le aree interne e le zone meno popolose del Molise. È il venafrano Vittorio Nola, ex presidente del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, che attacca l'esecutivo frattura non solo per la legge, ma anche per il commissariamento dell'ente. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Una legge è la riforma elettorale della regione Molise che penalizza ancora di più le zone interne, quelle più deboli e spopolate, che perderanno anche il loro diritto di rappresentanza. è Vittorio Nola, ex presidente del Consorzio di Bonifica di Venafro, che aggiunge la sua alle innumerevoli voci che protestano per una legge elettorale pensata solo per garantire la sopravvivenza degli attuali inquilini di Palazzo Daimmo. Certamente gli attuali componenti della giunta regionale, da quello che leggiamo sui giornali, hanno l'intenzione di proseguire la loro avventura. Tanto è vero che hanno fatto di tutto per approvare questa legge elettorale col collegio unico, che è vero che erano 50 anni che il Molise non aveva una legge, ma farla così e farla così di fretta, obiettivamente qualche penalizzazione ci sarà. E penalizzazioni le avranno proprio le piccole province, come la provincia di Sernia, e i piccoli comuni che faticheranno ad essere rappresentati nel nuovo Consiglio regionale. Ma sotto i riflettori delle critiche di Vittorio Nola non finisce solo la riforma elettorale. All'ex Presidente del Consorzio di Bonifica non è andato giù neanche il commissariamento di un ente che sotto la sua guida aveva mostrato notevoli segnali di ripresa. Io credo che l'attuale giunta regionale abbia completamente sbagliato tutta la pianificazione degli investimenti. E lo dimostra anche l'atteggiamento che ha avuto sui consorsi di Bonifica, che si è rilevato totalmente perdente. E quello che avevo denunciato a febbraio di quest'anno, cioè che i commissariamenti non sarebbero stati provvisori, si sta avverando. Abbiamo ancora i commissari, si stanno perdendo anche qui degli investimenti importanti sul fronte del dissesto idrogeologico e della valorizzazione dell'acqua. Addirittura si sta pensando di dirottare alcuni investimenti dei consorsi di Bonifica a Moliseacqua. Cioè siamo veramente alle promesse elettorali. E adesso a Campobasso, dove la querella sul mancato accesso in Piazza Pepe alle auto dei disabili, fa registrare una novità. Nelle ultime ore il sindaco Antonio Battista ha firmato un'ordinanza con la quale vengono istituiti due posti per la sosta riservata alle persone con ridotta capacità di diambulazione. saranno collocati nello spazio a ridosso di una edicola. La strada, lo ricordiamo, ha chiuso al traffico a seguito della circolare del Ministero dell'Interno relativa alle misure antiterrorismo. Ieri la protesta del parroco della cattedrale che ha lamentato problemi e disabili nel raggiungere la Chiesa per partecipare alle funzioni religiose. La posizione delle barriere antiterrorismo soccorso Vittorio Emanuele a Campobasso non è sufficiente a garantire la sicurezza. Lo si apprende da fonti qualificate che riferiscono il parere espresso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Il problema è rappresentato dagli accessi laterali via Diattellis e via Verdone dove al momento le barriere sono sistemate in modo da rallentare il traffico ma consentono l'ingresso delle auto lungo la strada. L'ipotesi dunque è quella di bloccare i varchi laterali e aprirne uno con spazi ridotti all'inizio di Corso Vittorio Emanuele per consentire ai mezzi di soccorso di intervenire in caso di emergenza. All'inizio della prossima settimana ci sarà probabilmente un sopralluogo con i vigili del fuoco per effettuare una simulazione di intervento in emergenza e verificare i tempi necessari. A Termoli presentati i nuovi progetti di servizio civile nazionale. Un'opportunità per 16 giovani che saranno impegnati in attività culturali rivolte a disabili e minori. Ce ne parla Fabrizio Occhionero. Un'opportunità per i giovani dai 18 ai 28 anni che si apre in diverse iniziative socio-culturali nuovi posti per il servizio civile nazionale al comune di Termoli che ha fatto il punto sul bando Informarsi per crescere. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Angelo Sbrocca e l'assessore alle politiche sociali Maria Chimisso. Il progetto di servizio civile Informarsi per crescere il cui bando si è aperto nella giornata di ieri e resta tale fino al 29 di dicembre per quattro giovani sui minori e sulla promozione culturale. In cantiere ci sono anche nuovi progetti per consentire ad altri 12 volontari di partecipare a nuovi bandi. Abbiamo lavorato intensamente in questi giorni per candidarne altri tre. Sappiamo che c'è ancora capienza a livello nazionale sul servizio civile e quindi confidiamo che anche questi tre verranno ammessi per un totale di 16 posti distribuiti fra le situazioni di disagio i disabili la crescita culturale e con due posti assegnati sui fondi fami cioè quelli a valere sui rifugiati e i richiedenti asilo. Quella del servizio civile si conferma un'iniziativa riuscita in città e sull'intero territorio. In tanti, tra comuni e altre realtà come la Caritas o diverse associazioni hanno attivato i progetti coinvolgendo decine di volontari. Per come si sta evolvendo nell'ultimo periodo il servizio civile tende a essere recuperato e a sostituire e a completare quella parte di formazione dell'individuo che in qualche modo svolgeva il servizio militare. Andiamo adesso alla libreria della Corte di Isernia dove è stato presentato Cinque, l'ultimo romanzo di Giovanni Petta il servizio è di Sergio Di Vincenzo. Edito dall'erudita Marchio di Giulio Perrone di Tore il romanzo scritto da Giovanni Petta propone un sottile gioco letterario la storia della protagonista Stefania viene raccontata da cinque persone diverse ma ognuna finisce per intrecciarsi con l'altra il lettore vive la sensazione di trovarsi in un labirinto ma una volta trovata la strada giusta o meglio la chiave di lettura tutti i pezzi tornano al loro posto. Cinque questo è il titolo del romanzo è stato presentato in anteprima alla libreria della Corte di Isernia. Cinque perché sono cinque lettere di cinque lettori incaricati da un editore di relazionare su un manoscritto arrivato in redazione e in pratica l'editore prima di pubblicarlo vuole un resoconto da questi cinque lettori che lui ha incaricato per cui un insegnante un giornalista un musicista di feste di piazza un esperto di musica e un pensionato raccontano la vita di questo personaggio leggono il manoscritto e quindi vengono fuori cinque punti di vista diversi sulla vita di questa donna. Dando i loro pareri i cinque narratori approfondiscono i temi dell'amore della tossicodipendenza dell'insegnamento del rapporto genitori figli ma Stefania è realmente la donna descritta nel romanzo? Difficile stabilirlo ognuno ha il suo punto di vista ognuno valuta la protagonista da una prospettiva diversa e forse il messaggio che vuole lanciare Pet è proprio questo ognuno ha le sue buone ragioni ma nessuno detiene la verità assoluta. Ho cercato di mettere in questo romanzo la nostra difficoltà di trovare una verità in questa contemporaneità così complessa per cui sembra che tutti abbiano ragione che tutti vedano la vera Stefania e persino lei stessa tramite il suo avvocato fa sapere che non è quella la sua vita però non riusciamo a capire se persino Stefania menta. In questo scritto sono presenti anche riferimenti alla terra di origine dell'autore e a fatti di cronaca realmente accaduti. Qualsiasi scrittore penso metta nei personaggi quello che vive nella sua vita e Flaubert diceva Madame Bovary c'est moi e quindi sono io persino Madame Bovary persino il personaggio femminile in questo romanzo il giornalista per esempio racconta vicende di droga che io ho vissuto nella redazione del tempo intorno al 95 con le prime morti per overdose e quindi questo giornalista racconta questo fenomeno e nel libro di Giovanni Petta si parlerà anche domani durante un incontro organizzato nei locali di Spazio 180 sempre Sernia a partire dalle 18 in programma uno spettacolo con Andrea Lorena Cianchetta e Achille Mandolfo previsti gli interventi della giovane scrittrice Giorgia Petricca ed è la responsabile di letture effervescenti Francesca Penta e al Bitnik Caffè letterario in via Pietrunto a Campobasso fino all'8 dicembre sarà possibile visitare la mostra di Alessandra Primiani esposte le sue illustrazioni il titolo della mostra è novembre si dimentica in fretta appuntamento in serata all'auditorio di Sernia con il concerto di beneficenza Emma Marri Cantamina lo spettacolo è stato organizzato dal Rotary Club per raccogliere fondi da destinare ai comuni del centro Italia colpiti dal terremoto sentiamo Eugenio Silvestre presidente del Rotary Club di Isernia questa sera a partire dalle 20 e 30 appuntamento all'auditorium per un concerto di beneficenza quali le finalità? Beh guardi io vorrei premettere che il motto del Rotary è servire al di sopra di ogni interesse attraverso le competenze le professionalità la disponibilità degli amici soci rotariani il progetto fenice finalizzato all'aiuto dei terremotati dell'agosto ottobre 2016 va in questa direzione aiutare queste popolazioni a venire fuori da questo disagio da questa grossa difficoltà cosa proporrete questa sera? Guardi noi con alcuni amici rotariani di Isernia siamo andati a settembre a Norcia abbiamo visto tanta desolazione tanta disperazione ma anche tanta speranza speranza di venire fuori da quella situazione di rimanere in quelle zone ed evitare lo spopolamento bene come Rotary Club di Isernia vorremmo contribuire ad alimentare questa speranza aggiungendo un tassello e questa sera lo faremo attraverso un artista internazionale M.R.E. che interpreta M.I.N.E. una grandissima artista che io vorrei poter ringraziare già da adesso per la sua disponibilità e per la sensibilità manifestata nei nostri confronti e ora un appello il cane che dovremo vedere tra poco nelle immagini si è smarrito nella zona di Contrada Le Piane a Isernia si tratta di una femmina eccola qui che aveva appena dato la luce quattro cuccioli che ora rischiano la vita per la mancanza del latte materno chiunque l'aveste vista può contattare la nostra redazione di Isernia è dotata di un collare e di una medaglietta bene con questa notizia ci fermiamo adesso ci sono le previsioni dal tempo poi il telegiornale sportivo grazie per averci seguito arrivederci